Frosinone in casa con la Virtus Entella, il Latina al Bentegodi contro il Verona. E' questa la prima giornata del campionato di Serie B 2016-2017. Nel secondo turno invece i canarini andranno in trasferta a Brescia, il Latina farà il suo esordio in casa al Francioni contro lo Spezia. Alla terza giornata, subito l'attesissimo derby, la gara di andata tra Frosinone e Latina si disputerà al Matusa il 10 di settembre. Alla quarta invece, il 17 di settembre, per i giallazzurri c'è il Carpi in trasferta. In quell'occasione i canarini ritroveranno il primo grande ex, Leonardo Blanchard. Sempre quella giornata, il Latina riceve il Benevento. Alla quinta, il Frosinone ospita il Pisa, il Latina va a Novara. Alla sesta giornata invece sarà il Frosinone a salire al Bentegodi contro il Verona, mentre il Latina riceverà la Ternana. Alla settima sono in programma Cesena Latina e Frosinone Perugia. Alla nona, al Matusa arriva Stellone con il Sobari, una gara davvero da brividi per tutto l'ambiente giallazzurro e per il tecnico romano. Alla decima, il Frosinone invece andrà a Vicenza. In quell'occasione, Marino e Brighenti ritroveranno il loro passato. Il ventesimo turno è in programma il 24 di dicembre, alla vigilia di Natale, e prevede Frosinone Benevento e Perugia Latina. La ventunesima ed ultima giornata si giocherà per quanto riguarda l'andata, il 30 di dicembre. In quell'occasione ci saranno Latina Vellino e Provercelli Frosinone. Il campionato di Serie B inizierà sabato 27 d'agosto, con un anticipo serale in programma venerdì 26 alle 20.30 e si concluderà venerdì 19 maggio 2017. Sono previsti sei turni infrasettimanali, martedì 20 settembre 2016, martedì 25 d'ottobre 2016, martedì 28 febbraio 2017, e poi ancora nel mese di aprile, il giorno 4, il giorno 17, che coincide con Pasquetta, ed infine martedì 25 di aprile. Sicuramente sarà una partita difficile, Lentella è un'ottima squadra, ha già fatto un ottimo campionato lo scorso anno. Noi, come giustamente avete ricordato, dobbiamo metabolizzare una retrocessione, anche se è una retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è sempre una retrocessione, quindi sono curioso di vedere quale sarà il nostro atteggiamento. Forse questa partita costituisce già un bel banco di prova, per capire quale campionato potremo fare in futuro. E quindi l'obiettivo sarà ritornare immediatamente in Serie A? L'obiettivo sarà quello di provare a far bene, poi, sa, molto dipende dalla capacità che sapremo mettere in campo, e molto anche dipenderà dalle capacità dei nostri avversari, quindi fare una previsione oggi è molto difficile, a mio avviso. Presidente, com'è il dopo Stellone, dopo tanti anni passati insieme? Il dopo Stellone, diciamo, sotto certi aspetti è un percorso che va nella continuità. Noi non abbiamo cambiato molto, anzi quasi niente, a livello dirigenziale, a livello dell'ossatura della squadra, che rimane anche quella che da tre o quattro anni, in pratica, ci ha dato la possibilità di competere per questi traguardi. Quindi, in definitiva, certo, il tecnico cambia, però io ritengo che sia giusto che ogni tanto certi cambiamenti avvengano, soprattutto quando si chiudono dei cicli, dove è stato fatto e è stato detto quasi tutto, in definitiva.